Un paesino isolato della Norvegia, una mascolinità tossica che pervade l'intera storia, così come il tema della genitorialità, della famiglia, delle personalità rotte che solo insieme trovano il modo per aggiustarsi Tutto questo è The Hanging Sun, il film fuori concorso di Venezia 79, scelto per chiudere questa particolare edizione del festival veneziano che ha visto predominare storie di drammi, pessimismi, tragedie Questo film è l'opera prima di Francesco Carrozzini, segna il suo debutto alla regia dopo una carriera nel mondo della fotografia con esordio che appare convincente che, in una storia di luci e ombre, di demoni e, presunti, santi, riesce a comunicare tanto, anche nei suoi silenzi The Hanging Sun è un adattamento dal romanzo Sole di Mezzanotte di Nesebo e vede, tra i suoi protagonisti, un sorprendente Alessandro Borghi, molto a suo agio nel recitare in inglese, nelle vesti di un personaggio cupo, silenzione, solo, un orfano che trova la sua salvezza nell'affetto di un bambino e nella comprensione di una donna che, come lui, ha compiuto atti terribili solo per potersi salvare Quella di The Hanging Sun è una storia fatta di persone rotte, persone che hanno dovuto mettere a tacere i loro sentimenti e non hanno mai avuto l'opportunità di scegliere per se stessi, sempre vittima di un violento potere esercitato su di loro da altri Messe insieme, però, anche le anime perse sono in grado di ritrovarsi ed è proprio quello che accade in questo film Girato interamente in Norvegia, The Hanging Sun si porta dietro quelle sfumature bluastre dei paesi nordici non solo nella sua fotografia ma anche nel carattere dei suoi personaggi ed è un film che pur non essendo eccezionale convince il merito non è solo di Borghi ma di tutta la struttura di questo lavoro che, messa insieme, rende il film piacevole e coerente conclusione di Venezia 79 Voto, 6 e mezzo E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video